E dove è finito risposte sbagliate? Eh ma senza risposte sbagliate? Poracci ma guardate che qui la situazione è veramente grave Nessuno indovina e io come faccio ad andare avanti? Per due volte di fila nessuno ha riconosciuto rushing punch Somari, come punizione vi dovete andare a ripassare tutte e cento le puntate del TG Poro Senza schippare le pubblicità Guardate che poi vi interrogo Comunque complimenti a Skeleton Master che con la sua risposta sbagliata Ha provato se non altro a sensibilizzare tutti quanti verso un argomento Che troppo spesso trattiamo con superficialità Giustizia per gli scheletri Ma bene andiamo avanti Di che gioco si tratta? Mi raccomando solo risposte sbagliate Ma visto che ci siete datene pure una giusta Poracci bentornati o benvenuti Su TG Poro L'unico format di Youtube Italia dove si parla di videogiochi Anche quando si è in vacanza Quella di oggi sarà una puntata ricchissima Andremo a esaminare nel dettaglio le nuove piste aggiunte all'interno di Mario Kart 8 Deluxe E ci sono tante cose di cui discutere E poi parleremo anche degli ultimi rumor relativi a Grand Theft Auto 6 Che a quanto pare stravolgerà completamente il tono della serie Prima di iniziare però come al solito vi invito a tornare a Riva E a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com E la fondazione del Poroverso Lasciate like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche E seguitemi su tutti gli altri social I link li trovate in descrizione Io ho detto tutto Iniziamo Partiamo con qualche notizia al volo E inizierei con una bella carrellata di giochi più o meno gratis E dove trovarli Sull'Epic Game Store ogni settimana viene regalato un titolo E questa volta è il turno di Unrailed Che sarà disponibile per essere scaricato gratuitamente a partire dal 4 agosto Non ho mai provato Unrailed ma a quanto pare il classico indie dalle premesse carine Che se te lo regalano che fai? Dei fiuti Continua invece la lenta agonia del Games with Gold E anche per agosto non è che l'offerta di Microsoft brilli particolarmente Se siete diventati gattari grazie a Stray magari potete buttare un occhio su Calico Oppure se siete più tipi da azione c'è il Roguelite Scourgebringer E a completare l'offerta ci penseranno i classici Saints Row 2 e Monaco Il mio consiglio? Se siete abbonati solo al Gold investite qualcosina di più e passate al pass Poi non dimentichiamoci di Amazon Prime Gaming Che continua a offrire la storia delle avventure grafiche mese dopo mese Questa volta, finita la serie di Monkey Island È il turno di Zack McCracken E vi segnalo anche la presenza della Remastered di StarCraft Oltre che Scourgebringer pure qui Recompile e Beasts Poracci sono gratis, riscattateli e non si sa mai Prima o poi riuscirete a giocarli Il Plus invece ancora una volta mette in piedi un mese mostruoso I tre titoli offerti saranno Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 Yakuza Like a Dragon e anche Little Nightmares Tre titoli di tre generi diversissimi tra di loro Ma che vanno aggiunti assolutamente alla propria collezione Tra l'altro, a proposito di Yakuza A partire da agosto, i tier extra e premium inizieranno ad ospitare gli altri capitoli della saga Con alcuni che però saranno esclusivi solo del tier più elevato Un'ottima mossa, che fa il verso a quanto accaduto un anno fa più o meno sul pass Ma che spero non sia in sostituzione di novità per il catalogo retro gaming Che è la parte dell'offerta del nuovo Plus che più mi interessa e che più assolutamente va rinnovata Visto che difficilmente riusciremo a parlarne domani Vogliamo un attimo soffermarci sulle recensioni di Xenoblade Chronicles 3? Monolith a quanto pare ha tirato fuori un vero capolavoro Il migliore di tutta la saga Xenoblade Un titolo mastodontico, complesso e soprattutto ottimizzato a dovere Un netto passo in avanti rispetto al già ottimo Xeno 2 E a questo punto vi chiedo Voi lo prenderete al day one o magari ci state già giocando? Soprattutto, secondo voi, possiamo parlare di un potenziale GOTY 2022? E intanto Multiversus è finalmente entrato nella sua fase di open beta E anche i poracci come me ci possono giocare Non a caso i numeri registrati sono impressionanti Il brawler di Warner Bros ha registrato su Steam un picco di oltre 140.000 giocatori simultanei Stracciando tutti i precedenti record ottenuti dal publisher Se avete la possibilità date una chance a questo titolo Il cui unico difetto evidente per ora è quello di non essere su Switch Io ho iniziato a muovere i primi passi su Multiversus E da amante di Smash ne sono rimasto veramente colpito Chissà, magari, più in là, ne parleremo in modo approfondito in un video dedicato Che ne dite? Va bene, passiamo alle notizie del giorno E la vera bomba è che Nintendo ha finalmente svelato gli otto percorsi Che andranno a comporre la seconda ondata del pacchetto percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe Disponibile dal prossimo 4 agosto questa seconda parte del DLC Lasciatemelo dire, promette molto bene Nintendo sembra aver aggiustato parzialmente il tiro con la seconda ondata E nonostante gli otto nuovi tracciati siano chiaramente riutilizzati da Mario Kart Tour A livello qualitativo possiamo notare un bel passo in avanti rispetto a qualche mese fa Innanzitutto da quel poco che si vede la cura grafica riposta nei tracciati Sembra più in linea con la qualità delle piste principali di Mario Kart 8 Deluxe E nonostante ci sia ancora lo stile inconfondibile di Tour La base è pur sempre quella Direi che il tempo extra è stato speso per aggiungere qualche dettaglio agli scenari Donandogli così una maggiore profondità Poi c'è anche la selezione delle tracce Che va a prendere alcuni dei nomi più amati in assoluto dai fan della serie Immagino che tre quarti di voi abbiano goduto di brutto con l'arrivo di Flipper di Waluigi O Waluigi Spinball Ma anche Gola Fungo è un vero e proprio simbolo di Mario Kart Wii Uno dei percorsi più apprezzati di sempre Ci sono poi due curiose scelte La prima è quella di far arrivare Terra delle Nevi direttamente dal GBA Prima su Otto Deluxe invece che su Tour E anche poi l'inclusione di un nuovo tracciato Scelta che va contro quanto affermato durante la presentazione del DLC Sì lo so lo avete scritto tutti quanti che arriverà anche su Tour C'è scritto lo abbiamo letto ma rimane comunque un livello indicato come nuovo di Zecca E quindi oh lascia ben sperare per il futuro Anche perché non so se vi ricordate il data mining di qualche mese fa Ma erano state scoperte le intestazioni di tutti quanti i livelli non ancora annunciati E questa seconda ondata conferma la validità della scoperta Quindi abbiamo sia una buona notizia che una meno buona La meno buona è che Deserto Calimari sarà l'ultima traccia a venire ripescata dal Nintendo 64 Un vero peccato che questo episodio riceva così poca attenzione E poi come c'è di stracciatella in realtà ci sono altre piste a non riportare nessuna intestazione Quindi possiamo aspettarci che questo non sia un caso isolato Ma che con le prossime ondate arriveranno anche altri nuovi percorsi Quindi per ora sensazioni stra positive per quanto riguarda questa Wave 2 E non vedo l'ora di provarla la prossima settimana Voi poracci cosa ne pensate? Ma bene torniamo a parlare di Rockstar e GTA 6 Perché un report di Jason Schreier su Bloomberg ha aperto il vaso di Pandora Per quanto riguarda le indiscrezioni sul titolo E le speculazioni che ne sono emerse hanno fatto discutere Ma tanto Allora io sono affezionatissimo alla giostra dei rumor riguardanti GTA 6 Perché è tipo il gioco più desiderato e chiacchierato di sempre Ed è più o meno da quando sono entrato nel settore del giornalismo videoludico Che ciclicamente mi trovo a fare video sulle possibili ambientazioni del gioco E a commentare leak più o meno fantasiosi Questa volta però le cose sono un po' diverse Da una parte Rockstar ha confermato di aver messo in produzione il titolo E il report di Schreier ha un certo grado di attendibilità Sono emerse parecchie informazioni interessanti a riguardo E a quanto pare il gioco sarà ambientato in una rivisitazione parodistica di Miami E i due personaggi principali saranno un uomo e una donna Ispirati alle figure di Bonnie and Clyde Ad aver innervosito tutta la fanbase Non c'è tanto il fatto che una donna sia uno dei due protagonisti principali O almeno lo spero per voi Ma il fatto che secondo Schreier GTA 6 Conosciuto per ora come Project Americas Sarà un lavoro prodotto da una Rockstar ben diversa rispetto a quella di sei anni fa Che ha lavorato tanto per creare un ambiente lavorativo più sano e più inclusivo Per tutti quanti i dipendenti Cosa ottima per carità ma a questo sarebbe seguita Anche una maggiore attenzione verso i temi trattati all'interno della storia del gioco E una conseguente cura nel confezionare una sceneggiatura molto più edulcorata E attenta a quello che viene detto E soprattutto come viene detto Ad esempio Schreier parla proprio di attenzioni a non lasciare spazio a battute Potenzialmente offensive per minoranze già marginalizzate E ora prima che saltiate tutti quanti in piedi Appellandovi alla libertà di espressione E alla rovina del politically correct E a tutti gli altri temi che sembrano sempre toccare un nervo scoperto Vi invito a leggere tutto l'articolo Perché la situazione è assai complessa E nasce da evidenti problemi nella gestione dell'azienda E dal tentativo di riordinare una situazione abbastanza critica Resta il fatto che dal mio punto di vista Non ha senso censurare tra molte virgolette Un titolo che da sempre ha ridicolizzato la società americana Esagerando e parodizzando i suoi aspetti più paradossali La cifra espressiva di GTA è quella dell'insulto Dell'irriverenza e dello scorretto Anche in episodi che puntavano ad essere più realistici Come ad esempio il quarto capitolo Comunque ricordiamoci che queste per ora sono solo indiscrezioni E di base un cambio di tono non significa necessariamente Un abbassamento del livello qualitativo di un'opera Fossi in voi mi preoccuperei molto di più di altri dettagli Come l'idea che il gioco sarà in continua espansione E vedrà l'aggiungersi di nuove città nel corso degli anni Che Rockstar stia preparando un live service Bene poracci questo era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo E vi aspetto qua sotto nei commenti Per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno Non mi resta che darvi appuntamento a domani Con un nuovo video Voi nel frattempo mi raccomando Fate bravi, riposatevi Ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro Wave Michele GTA Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion Il Patreon dei poracci Con un piccolo contributo mensile Mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime E anche live esclusive Dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione E ricordati che Poracci si diventa Ma cosa dici? Ha, 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 ha